Torna Sport per la Vita, trentesima edizione, sabato 7 febbraio, gran galà internazionale di pattinaggio spettacolo con i campioni di questa disciplina. Sport per la Vita avvicina la solidarietà, ci saranno dei fondi che verranno raccolti anche per la Lega Italiana Fibrosicistica. Celestino Ricco, vogliamo parlare di questa iniziativa in particolare? Sì, ormai sono quattro anni di collaborazione con l'Associazione Sport per la Vita e quindi siamo legati a questa manifestazione, a un doppio filo, quest'anno anche insieme all'Unitalsi. Dopo aver utilizzato fondi per progetti di ricerca, quindi per finanziare porzioni di progetti di ricerca a livello nazionale, abbiamo deciso di indirizzare i fondi raccolti sul territorio. Quindi utilizzeremo per il centro regionale di fibrosicistica che ha dati per coprire le carenze occupazionali, anche le carenze di personale specializzato che purtroppo non riusciamo ancora a stabilizzare a livello istituzionale, quindi con i mezzi a disposizione delle ASLE. Speriamo quest'anno di poter, oltre a continuare a pagare i progetti dei fisioterapisti e dell'infermiera, di poter allargare il campo d'azione assumendo una dietista e una psicologa, che sono altre due figure professionali determinanti per il controllo e per la prevenzione di questa malattia. Noi ci occupiamo di case accoglienza per bambini ospedalizzati e appunto accogliamo gratuitamente queste famiglie che hanno veramente problemi anche economici, oltre che problemi di salute, perché quando si ammala un bambino si ammala una famiglia. E spesso e volentieri in questi casi, quando soprattutto la degenza diventa lunga, la malattia va avanti negli anni, queste famiglie vanno a finire anche, molte famiglie vanno a finire sull'astrico, perdono il lavoro, perdono veramente il senso della vita. Noi li accogliamo, li accogliamo nelle nostre strutture e non è solamente dare un letto, ma cercare proprio di creare un ambiente familiare, di creare quello spirito giusto che ti fa sentire una famiglia vicina.